Abbiamo dieci minuti soliti di ritardo, ma va benissimo, così ci siamo ritrovati. Vedo molte facce conosciute ormai, molti affezionati. Bene, siamo all'ultima serata per quanto riguarda le lezioni teoriche, tecnicamente, sulla storia della Valica Monica. Ecco, molti di voi ci hanno seguito fino all'inizio, con lezioni che sono partite con l'arte rupestre della Valica Monica, quindi periodo protostorico. Poi abbiamo parlato di epoca romana, l'ultima volta, sabato scorso, abbiamo parlato invece di Medioevo, oggi invece andiamo a concludere con gli ultimi 500 anni in storia della Valica Monica. Ovviamente più ci si avvicina al periodo odierno, più naturalmente il periodo cronologico diventa ristretto, perché le informazioni diventano sempre maggiori. Infatti vedremo che oggi in verità parliamo di solamente 500 anni in storia, ma di cose da dire ce ne sono veramente avagonate, in verità non avete idea di quanto ho dovuto tagliare, che purtroppo sarà probabilmente occasione di altre esperienze del genere, spero e suppongo. In ogni modo, appunto, la senatista sera si chiama il Leone di San Marco, in secoli d'ora della Repubblica di Venezia. Questo, per chi non lo sapesse, è che appunto la Repubblica di Venezia, ovvero il territorio, lo Stato Veneto, che aveva appunto il capitale Venezia, che era uno dei più grandi stati preunitari, cioè prima che si formasse l'Italia, arrivava fino qua, in Valica Monica. La Valica Monica era il confine del nord, così è spesso definito, proprio perché era la parte, la punta più settentrionale all'interno delle Alpi, che faceva parte appunto della vecchia, sernissima Repubblica di Venezia. Quando è arrivata a Venezia in Valica Monica? Beh, dobbiamo ricollegarci a quello che ci dicevamo sabato scorso, ecco, non so chi di voi c'era, abbiamo parlato un po' di Medioevo, abbiamo parlato un po' delle grandi famiglie, che si trovavano in Valica Monica in epoca medievale, degli schieramenti, guelfi, guendini, di come si sono combattuti per tutto il Trecento, dell'arrivo dei milanesi, che è più o meno dalla metà del Trecento, erano qui in Valica Monica. I visconti di Milano erano signori sostanzialmente della Lombardia nel suo intero, non solo con Gian Galeazzo, non solo prendono la Lombardia, prendono anche la parte del Veneto, arrivano fino in Toscana e diventa, sotto Gian Galeazzo Visconti, lo Stato Viscontino, uno dei più grandi stati a livello italiano. Poi con la sua morte nel 1402, appunto questo sistema collassa e pian piano verrà smembrato, perché le varie parti guadagneranno una forma autonoma e sempre più forte. Soprattutto Venezia, che dall'inizio del 1402 si espande molto decisa nell'entroterra italiano, quando prima era solamente legata ai suoi territori, ai suoi possedimenti marittimi. Di importante da ricordare, inizio del 1402, è un personaggio che spesso viene dimenticato, che è tale Pandolfo Malatesta. Malatesta, per chi è stato in vacanza a Riccione Rimini, sicuramente potrà legarlo a delle esperienze piacevolissime, perché in Malatesta erano appunto signori di quelle zone. Beh, questo tale Pandolfo Malatesta era, nell'inizio del 1402, un capitano di ventura, mentaltro che un mercenario, come lo chiameremmo noi oggi, che prestava i suoi servizi ai signorotti italiani che spesso si facevano guerra. Era al servizio dei Visconti, a un certo punto, dopo aver combattuto a lungo per i Visconti, bisognava pagarlo, i Visconti non avevano soldi liquidi da dagli, Caterina Visconti a quel tempo, e quindi per ricompensare dei suoi servizi, evitare appunto che si schierasse con i nemici di Visconti Milano, perché ovviamente un mercenario che non era pagato, non è che stava fermo, cambiava padrone, e spesso andava a combattere il primo che gli aveva dato lavoro. Beh, Pandolfo Malatesta cosa fa? Chiede il suo risarcimento, chiede i suoi soldi, i milanesi non hanno i soldi per pagarlo, gli donano in cambio a città di Brescia come momentaneo dono per ricompensarsi un po' dei soldi, fino a quando appunto non avessero denaro contante per pagarlo e poi riprendersi appunto Brescia. Beh, Pandolfo Malatesta si va a prendere un po' la mano, diventa, non solo prende Brescia, ma diventa signore di Brescia. Infatti Brescia non è famosa per le sue signorie, perché non ci sono famiglie come, non so, i della Scala per Verona o i Visconti per Milano. Brescia è legata a un solo signore che appunto Pandolfo Malatesta che fu signore, il vero e proprio signore di Brescia tra il 1404 e il 1421, fondando l'unica vera signoria che fu legata poi alla città di Brescia. Pandolfo Malatesta ovviamente dopo essersi ribellato formalmente ai suoi vecchi datori di lavoro ovvero i Visconti li combatte a lungo tempo. La Valle Camonica diventa un vero e proprio terreno di scontri tra i Visconti di Milano e il Malatesta. A un certo punto la Valle Camonica si è proprio divisa in due parti. Nella parte alta, a nord, ci saranno i Visconti che ovviamente salivano dal lago di Como, salivano dalla Valtellina che rimaneva fermamente in mano Viscontea e scendevano dalla Prica dalle Valle del Mortirolo per appunto prendere la parte alta della Valle Camonica mentre la parte a sud era in mano sostanzialmente dei Visconti del Malatesta scusate che salendo dal lago di Seo appunto occupava la parte bassa. Si scontrano per lungo tempo poi nel 1421 il Malatesta viene definitivamente sconfitto da Francesco Bussone ovvero il conti Carmagnola come l'abbiamo studiato tutti a scuola che a quel tempo era appunto un capitano di ventura quindi il solito mercenario al servizio dei Visconti. Sapete un po' come la storia del Carmagnolo che anche lui cambia bandiera destra e sinistra a un certo punto passa in schieramento veneziano nella sua carriera e infatti nel 1426 lui sta sotto Venezia quando appunto Priscia si dona a Venezia perché appunto Venezia si espande nella terraferma dicevamo partire dal 400 cosa succede? Venezia di la verità non è che una politica di conquista detto ai territori italiani preferiva agire in un modo indiretto si chiamava non a caso Repubblica serenissima non era una signoria sebbene a capo avesse un doge che fungiamo un po' da signore sostanzialmente l'ordinamento veneziano era un ordinamento democratico oligarchico però c'era una base democratica anche se alti livelli aristocratici era la base e quindi non conquistava dall'alto ma cercava di far sì che i territori si donassero tramite una dedizione ovvero voleva che le comunità che lei poi andava a inserire all'interno del suo stato chiedessero di essere annessi alla Repubblica di Venezia Brescia fa questo nel 1426 chiede formalmente di far parte della Repubblica di Venezia e Venezia giustamente accetta di solito questo contraccambio in cosa consiste? in un atto in una carta di dedizione così chiamata nel quale appunto Brescia dice io mi dono a te Repubblica di Venezia in cambio tu mi concedi di leggere il mio consiglio di farmi le mie norme di mantenermi le tasse su determinati elementi e così via quindi diciamo è uno scambio diciamo la Valle Camonica quando entra a far parte della Serenissima Repubblica di San Marco solamente nel 1428 lo stesso anno in cui entra a Bergamo cioè quasi due anni dopo e ci entra in un modo abbastanza truculento siamo dopo il 1427 quando c'è stata la famosa battaglia di Maclodio nella bassa Bresciana nel quale appunto il conte di Carmagnola che a questo punto non era più con i milanesi come abbiamo visto prima ma era con i veneziani e quindi aveva combattuto contro i suoi vecchi datori di lavoro riesce a sconfiggere appunto le truppe milanesi e allora i veneziani cominciano ad entrarsi nelle valli alpine perché è stata veramente per i milanesi una forte rotta una battaglia persa assolutamente quella di Maclodio questo fa sì che i veneziani cominciano a combattere entrare in Valle Camonica e combattere nelle nostre zone tanto che a fine del fine dicembre più o meno arrivano notizie che la Valle Camonica era ormai in mano veneziana in verità la Valle Camonica diventerà effettivamente veneziana solamente nel gennaio del 1428 quando i veneziani snideranno riusciranno a snidare dalla sua rocca che è questa quello che ne rimane è questa sostanzialmente la rocca di Mu sopraedono in alta Valle Camonica l'ultimo forte federiciano ovvero della famiglia Federici che come dicevamo l'ultima volta erano fortemente schierati col partito milanese la comunità di Valle Camonica invece cioè i territori comuni di Valle Camonica fanno la stessa cosa che ha fatto Brescia conquistati dai veneziani sconfitti milanesi la comunità di Valle Camonica si ritrova e chiede a Venezia di poter diventare parte del territorio veneziano ovvero fare una dedizione simile a quella che hanno fatto le altre comunità le altre città come abbiamo visto prima nella terra firma questa richiesta arriva a Venezia nel giugno del 1428 e il primo luglio 1428 il doge Francesco Foscari risponde che la Valle Camonica salvo una serie di concessioni era ovviamente accettata all'interno della Repubblica di Venezia come fedele suddita del doge quindi la Valle Camonica si dona formalmente alla Repubblica di Venezia il primo luglio 1428 vi ricordate l'ultima volta quando dicevo che in alta Valle Camonica c'era appunto questa contea dei Federici che era riuscito a ottenere nel 1411 pochi anni prima appunto ottenendo anche il titolo dei conti beh il loro titolo ovviamente non viene più riconfermato i Federici essendo schierati col partito milanese quindi contrario ai nuovi padroni non vengono riconfermati nei loro vecchi titoli quindi perdono il titolo di conte che avevano ottenuto solamente nel 1411 questo è il diploma di dedizione di Valle Camonica un documento una pergamena una grossa così che si trova conservata a Breno presso gli archivi di quella che era antica comunità di Valle Camonica oggi si chiama raccolta Pudelli e appunto il documento che il doge Francesco Foscari ha firmato dichiarando appunto l'annessione della Valle Camonica alla Repubblica e che cosa dice questo diploma quali erano le cose che chiedevano i camuni per donarsi la Repubblica Venezia per non rimanere con i milanesi beh chiedevano innanzitutto di poter commerciare il sale con la Germania hanno detto che Venezia aveva il monopoglio del commercio del sale perché ovviamente il sale non si trova sulle Alpi sono pochi giacimenti come Salisburgo o zone appunto dove si poteva tenere salgemma e quindi c'era un commercio esclusivo con Venezia un bene quindi prezioso che arrivava da molto lontano e che quindi costava anche tanto probabilmente il sale di Germania costava un po' meno noi avevamo forti legami tramite punte di legno con la zona del Tirolo perché poi il bescovado di Trento era già sacro romano imperio e quindi commerciava spesso con il nord Europa e quindi i camuni chiedono di poter comprare anche il sale da Germania perché altrimenti sarebbero rimasti solamente dipendenti da quello veneziano poi chiedono di vendere e di condurre ovunque qualsivoglia quantità di ferravezza la ricchezza della valle camonica abbiamo detto si basava sul ferro sulla lavorazione del ferro sulla vendita del ferro ovviamente Venezia aveva il monopolio di questo bene perché il ferro era un metallo prezioso si facevano le armi col ferro e quindi bisognava stare attenti dove andava a finire questo metallo e la valle camonica ne era molto ricca i camuni chiedono si noi veniamo diventiamo veneziani venderemo anche voi il nostro ferro però non solo voi noi ci campiamo su questa cosa dobbiamo avere il diritto di venderlo a chiunque infatti c'erano mercanti che venivano da tutta Italia al mercato di Pisogna e a quello di Isio per comprare il ferro della valle camonica perfino dalla Francia e perfino dalla Spagna quindi era un bene veramente richiesto e questo in epoca antica quindi non recente poi i camoni chiedono di avere degli statuti dei decreti degli orientamenti sia civili che criminali come quelli che avevano avuto nel Medioevo ovvero non vogliono dipendere dal diritto dalle leggi veneziane ma i valle camonica abbiamo già detto che dal vent'anno del 300 si era formati degli statuti sia civili quindi di diritto civile che criminali ovvero di diritto penale con delle pene con delle sanzioni tipiche della valle camonica che era diversa da quelle di Brescia della Val Trompia della Val Sabia della Val di Scalve erano tipiche della valle camonica e questi statuti dovevano rimanere così come erano stati decisi dai camoni non potevano essere imposti altri statuti dall'alto è stato un po' oggi è una cosa così inconcepibile che una provincia abbia una legge diversa da quella dello stato italiano ma è qui quello che stanno chiedendo sostanzialmente e Venezia gliela concide oltretutto un altro dettaglio e questo si riconduce al tema dell'autonomia di cui parlavamo l'ultima volta naturalmente divisi questi popoli alpini che ci tengono veramente molto beh la valle camonica chiede che la comunità e gli uomini della valle camonica si ritengano e si riconoscano in perpetuo separati dalla città di Brescia di Bergamo e da loro distretti la valle camonica doveva rimanere un territorio a sé stante non doveva essere né bresciana né bergamasca e questo diciamo un punto molto saldo che è stato confermato dal privilegio del 1428 ma che vedremo verrà pochi anni dopo leggermente mutato infatti il capitano di valle camonica non sarà più un nobile veneziano come era appunto nel 1428 ma invece verrà dalla città di Brescia per un motivo un po' diverso velocemente per chiudere un po' il quadro prima di parlare lo specifico dell'epoca veneziana che ci interessa oggi in verità l'epoca veneziana parte per la banca monica dal 1428 e arriva fino all'arrivo di Napoleone nel 1797 praticamente tutta intera non ci sono grossi interruzioni a parte appunto una piccola parentesi che avviene nel 1509 quando appunto con la lega di Cambrai Venezia di Cambrai la lega la Venezia appunto perde tutti i suoi territori nel nord Italia un periodo che dura appunto dal 1509 al 1516 in cui Venezia non ha più neanche un territorio nel nord Italia perché viene assalita da una coalizione di potenze guidate appunto dal Papa e perde praticamente tutto però nel 1516 recupera esattamente tutto quello che allora ha perso appunto non sto qui a raccontarvi i dettagli e le storie perché non ci interessa nello specifico per quanto riguarda la marca monica era solamente per dire che appunto partendo dal 1428 fino al 1797 per oltre 300 anni possiamo considerare la marca monica veneziana e infatti vedremo che molte cose che noi vediamo ancora oggi all'interno dei nostri abitati i nostri centri storici risalgono in gran parte in questo periodo noi ce ne siamo completamente dimenticati a volte ci perdiamo a raccontarci di Medioevo quindi in verità probabilmente il periodo che abbiamo sempre più sott'occhio è il periodo veneziano di cui in verità conosciamo molto molto poco questa ecco era la magnifica città di Brescia magnifica era il suo titolo la marca monica era chiamata l'aspettabile comunità di marca monica c'erano questi titoli molto altisonanti c'era anche la magnifica patria della riviera di Salò quindi ecco una volta si piaceva veramente chiamarsi con questi titoli veramente altisonanti c'erano queste lettere bellissime questa è la città di Brescia che vedete era murata era un quadrato se avete presente Bergamo Bergamo è probabilmente una delle poche città veneziane perché la Repubblica di Venezia si è espansa fino all'Alta quindi Bergamo incluso che ha mantenuto le mure intatte oggi se volete andare a vedere le mure di Brescia le trovate lì sotto alla strada di quel ring che gira attorno al centro storico purtroppo gran parte delle mura di epoca antica sono state rase al suolo che a Verona ha avuto il stesso problema ma così Milano così così Verona così Padova eccetera eccetera la città di Brescia oltretutto attorno alle mura aveva circa un chilometro e mezzo di spianata era così chiamata una terra di nessuno dove nessuno poteva costruire quindi dovete immaginarvi di arrivare a Brescia e vedere questa città murata sorgere dal nulla in mezzo ai campi doveva essere veramente uno spettacolo questo invece non so se qualcuno l'ha mai notato lo stemma di Bartolomeo Colleoni quello che ha riconquistato più volte la valle camonica per vari signori prima per i milanesi poi per i veneziani probabilmente avete visto se siete andati a visitare Bergamo Alta dove c'è la sua tomba addossata al Duomo e in verità vedete che sono tre testicoli ovviamente cognome Colleoni non vi dico cosa deriva però per assonanza ci potete arrivare questa era terraferma veneziana ovvero il territorio di Venezia dal 1400 fino al 1797 e vedete che partiva dal Friuli e arrivava fino a Berlusia c'era qui Crema che era un territorio leggermente isolato era unita con un piccolo transito murato al resto della Bergamasca però faceva parte ancora di Venezia anche se circondata tutto nello stato di Milano la cosa interessante di questa mappa è che ci fa capire un po' le dinamiche del periodo soprattutto se ragioniamo nei termini moderni di cittadino comunitario extracomunitario eccetera eccetera beh per un Camuno del 1400 nel 1500 nel 1600 un compatriota non era un milanese un milanese era uno straniero un extracomunitario il compatriota del Camuno era un albanese era un croato immaginatevi anche qui che prospettiva strana rispetto ai giorni nostri l'aspettabile comunità di Valle Camonica era uno dei distretti in cui era divisa l'area bresciana in epoca veneziana era il territorio più grande più o meno è ancora provincia di Brescia di oggi però la Valle Camonica ne occupava una bella fetta nella parte alta poi c'era l'altra grande fetta dell'area bresciana che aveva forte autonomia e appunto la magnifica patria della riviera di Salò poi c'erano le altre due valli Val Trompia e Val Sabbia che avevano una loro identità ma gravitavano molto fortemente attorno a Brescia e poi il territorio di Brescia che sta appunto nella pianura la Valle Camonica si amministrava in un modo separato da Brescia era divisa dicevamo l'ultima volta in pievati o in pievanati ovvero c'erano delle pievi che fungevano un po' anche da divisioni amministrative ritalcavano un po' le vecchie pievi medievali che avevano una funzione primariamente legata all'aspetto religioso successivamente diventano proprio dei distretti amministrativi tanto che appunto alle pievi normali religiose che erano Edolo erano Cemmo erano Cigliate ed erano Rogno si vanno a creare delle pievi puramente amministrative per questioni appunto da un lato di necessità visto che una pieve creata dal nulla è quella di Dalegno cioè l'Alta Valle Camonica quindi un territorio il più estremo della Valle Camonica doveva avere certi privilegi perché è potenzialmente un rischio perderlo poteva essere testi di ponte per eventuali nemici che potevano scendere in Valle Camonica e l'altra invece era curiosamente Borno Borno viene eletta pieve la famosa pieve di Borno e Dalegno che è una pieve inesistente ma aveva solamente una funzione politica amministrativa perché Borno permette un paese molto potente molto popolato e quindi aveva un peso demografico non indifferente nella comunità di Valle Camonica in epoca antica un'altra cosa interessante oltre a questa differenza distrettuale è che in Valle Camonica la famiglia Federici che abbiamo detto essere la più importante in epoca medievale aveva un peso specifico molto importante ed era spesso considerata come un paese o come una vera e propria pieve tanto come Borno come Cemmo come Edoro c'era anche la pieve Federici ovvero della famiglia Federici probabilmente perché erano inzitutto tantissimi oltre a tutto potentissimi questi Federici qua in Valle Camonica e infatti dal 1477 sono considerati come uno dei seppie vanatici della Valle Camonica durante l'epoca veneziana dobbiamo considerare che però i privilegi di questi nobili che durante il Medioevo hanno fatto un po' il buono e il cattivo tempo se ricordate l'ultima volta si combattevano facevano strage andavano a saccheggiarsi perché ovviamente c'era anche una situazione abbastanza anarchica con una valle molto frammentata durante il periodo veneziano in cui c'è un consolidamento degli organi amministrativi della Valle Camonica queste famiglie potenti perdono pian piano il loro potere e si inseriscono invece nella burocrazia statale diventano notabili diventano notai diventano dottori rimangono sempre famiglie con persone importanti però ovviamente non sono più i signorotti che facevano il buono nel cattivo tempo nel Medioevo a capo della Valle Camonica che c'era c'era il cosiddetto capitano di Valle questa è la sua casa si trova ancora oggi nel centro storico di Breno in verità ormai ha perso un po' i suoi colori storici c'era probabilmente un grosso fresco sulla facciata si nota ancora un leone della città di Brescia un leone rampante se avete presente quello che c'è sulle magliette del Brescia Calcio ecco stava sempre in Brescia qui ci sono un paio di stemmi dei capitani di Valle Camonica perché chi era il capitano era un membro eletto tra le famiglie nobili di Brescia che veniva mandato per un anno a essere il magistrato supremo della Valle Camonica ogni anno cambiava e quindi ogni anno c'era una persona diversa di un cognome diverso di una famiglia nobile diversa però ogni volta che arrivava questo capitano si faceva dipingere il suo stemma sulle facciate se andate ad esempio a vedere a Vilminore di Scalve i podestà i rettori che c'erano a Vilminore di Scalve che era una comunità di Valle simile a la comunità di Valle Camonica nel palazzo della comunità di Vilminore di Scalve trovate tutta una serie di stemmi di nobili di capitani che però non provenivano da Brescia ma da Bergamo la Valle Camonica se vi ricordate prima era riuscita a strappare nel 1428 la dedizione al doge Francesco Fosca nella quale si diceva che doveva essere in ogni modo separata e non dipendente sia da Brescia che da Bergamo perché allora si parli un capitano bresciano? perché arriva questa persona da Brescia quando i Camoni erano riusciti a separarsi completamente? beh perché nel 1440 succede un fatto abbastanza importante i milanesi nel 1438 avevano cominciato a riconquistare i territori che avevano perso 10 anni prima più o meno e riescono a porre un forte assedio attorno alla città di Brescia Brescia resiste per moltissimo tempo si racconta che era un assedio terribile all'interno avevano finito le derrate alimentari si era mangiati qualsiasi cosa gli diceva che non si attiva più neanche un cane a bagliare a Brescia perché aveva mangiato veramente di tutto la città stava per cadere ma continuava a rimanere fedele a Venezia a un certo punto quando erano in procinto appunto di aprire le porte i milanesi perché altrimenti sarebbero morti tutti i fami cosa succede? i Santi Faustino e Giovita protettori di Brescia compaiono sulle mura e salvano la situazione Niccolò Piccinino si spaventa non riesce più ad attaccare la città smonta l'assedio e si ritira a Milano e Brescia riesce a sopravvivere a questo assedio ovviamente è un successo enorme i Santi Faustino e Giovita vengono portati in trionfo Brescia ottiene il titolo di Brixia Fidelis non so se avete mai notato che spesso accanto allo stemma di Brescia si trova appunto Brixia Fidelis non è che è fedele perché era fortemente cattolica ma perché era fortemente fedele a Venezia e quindi ottiene questo titolo proprio per questo grosso assedio a cui è riuscita a scampare e per ringraziare questo grosso assedio questo grosso sforzo che la città di Brescia si era riuscita a fare contro i Mianesi Venezia è disposta a fare delle concessioni concessioni che ovviamente va a mettere sulla spalla dei Camuni Brescia chiede di avere il podestà la podesteria di Valle Camonica e Venezia non riesce a dire di no e quindi dal 1440 i nobili che fino dal 1428 al 1440 veniva direttamente da Venezia e venivano qui in Valle Camonica ogni anno non vengono più mandati da Venezia ma vengono scelti all'interno del consiglio Bresciano la carica della Valle Camonica non era peraltro una carica molto ambita dai nobili Bresciani anche perché spesso i Camuni erano ostili e questi Bresciani li vedevano come un'imposizione dall'esterno anzi continueranno per anni per decenni anche per secoli a richiedere un provveditore un rettore veneziano piuttosto che uno Bresciano disposti perfino a pagarsi di tasca loro piuttosto che non sia Bresciano infatti vedete qua abbiamo questa iscrizione di Marcantonio Mulla che era un podestà veneziano che stava a Brescia e li scriveva nel 1547 cioè più di 100 anni dopo esse vallate cioè la Val Trompia la Val Sabia la Val Camonica sono devotissime di vostra serenità cioè sono fedelissime a voi o doge di Venezia si contendano del gioco loro cioè si accontentano di quello che hanno eccetto la Val Camonica che è retta da un reggimento mandato da Brescia cioè che è retta da un capinato mandato da Brescia che però non ha l'autorità di poter far sangue cioè non poteva eseguirle con danni a morte in Val Camonica questo poi ne parliamo magari più profonditamente ma si poteva far processo e assolvere però bramano un provveditore veneziano e gli dariano salario conveniente salvando però la magnifica città di Brescia su giurisdizione cioè il Camonino era perfino disposto a pagare su di tasca loro questo potestà veneziano comprese le spese di viaggio pur di non avere un breciano che stesse a capo della Val Camonica in verità vedete che queste discussioni sono andate avanti per lungo tempo peraltro si è notata la casa del capitano una luna di particolare ora se qualcuno rappresenta appunto il minore di Scalve oppure la magnifica comunità della riviera se andate a Salò e vedete il palazzo della magnifica comunità ma se andate in una piazza brembana a vedere quello della magnifica comunità di Val Brembana o in Val Averara i palazzi dei podestà dei rettori erano palazzi molto importanti e molto suntuosi ma in Val Camonica invece promette averlo infilato in una stanzina questo capitano di Brescia si permette anche per andargli contro e metterlo nel posto più scomodo possibile tra l'altro la carica del capitano di Brescia era anche mal vista dagli stessi nobili bresciani perché ovviamente arrivare in Val Camonica non era semplice lo dicevamo l'ultima volta bisognava prendere la barca Eseo sbarcare a bisogno e entrare in Val Camonica eccetera mentre le altre podesterie importanti che facevano anche una certa nomea a chi le otteneva tra i nobili di Brescia ad esempio podesterie di Orzinovi di Iseo di Rezzato di Lonato eccetera 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 erano molto richieste anche perché ovviamente essendo vicino a Brescia si andava a lavorare di giorno e la Siria si andava a fare festa a Brescia beh quando si arrivava in Val Camonica dopo due giorni viaggiano potevi andare a Brescia a fare la festa dovevi rimanere in Val Camonica con quelli che non ti volevano quindi ecco non era neanche un bel lavorare però ecco non tutti i podestani hanno avuto brutte esperienze in Val Camonica ci sono quelli che hanno avuto anche degli elogi quando se ne sono andati quindi sono stati ben accettati invece ci sono quelli che invece hanno avuto vere e proprie difficoltà con quasi aperte ribellioni dei Camoni questo ve l'ho messo solo per farvi capire la complessità della cosa era come si governava la Valle Camonica in epoca veneziana molto complesso era un sistema abbastanza curioso ve l'illustro molto velocemente perché è un po' diverso quello che ci aspettiamo noi oggi noi oggi che siamo abituati a un sistema democratico abbiamo la persona il cittadino che vota giusto la persona eletta che comanda in verità qui era un sistema incrociato in cui i cittadini in verità ne erano esclusi formalmente era una democrazia effettivamente era un'oligarchia ovvero un gruppo di persone che si continuava a nominare da sé a capo di tutto il consiglio dei ministri possiamo così chiamarlo dalla Valle Camonica era la congregazione dei deputati che era di 12 persone che si occupava dell'ordinaria amministrazione poi avevamo il consiglio segreto che aveva 21 membri e aveva l'autorità sugli affari urgenti al quale si aggiungevano degli additi cioè degli aggiunti per probabilmente per aumentarne il numero e sembrare più democratici e poi c'erano i ragionati o gli elezionari che invece si occupavano di ragioneria e di contabilità e infine c'era il consiglio generale in cui si trovavano 154 persone 154 persone calcolate quanto doveva essere imponente questo consiglio questo diciamo è l'antenato del nostro vecchio consiglio di comunità montana di Valle Camonica il consiglio di comunità montana di Valle Camonica prima dell'ultima riforma era il terzo organo deliberante più grande dello Stato italiano dopo la Camera e dopo il Senato quando si ritrovavano mi sembra che erano tre rappresentanti per comuni per 40 comuni di Valle Camonica immaginate quanti erano Breno quando doveva votare adesso mi sembra che si è un rappresentante per comune quindi li hanno falcidiati un po' però ovviamente viene fuori da qua perché qui c'erano 154 membri due membri per ogni comune più due della famiglia Federici che vedete la famiglia Federici si trovava praticamente ovunque c'era un membro fa gli elezionari due membri fa il consiglio segreto un membro fa gli additi due membri del consiglio generale quindi erano considerati quasi come un comune qui un comune di una pieve eccetera più tutti i membri degli altri consigli e invece cosa faceva questo consiglio generale che era il consiglio più grande nominava i ragionati e nominava i deputati però se vedete i ragionati che erano nominati dal consiglio generale nominavano il consiglio generale e quindi in realtà si nominava tra di loro non è che si sfuggiva non è che c'era qualcuno da sotto che poteva tirare dentro gente nuova cioè non c'erano i grillini a quel tempo si poteva scappare vedete che oltretutto gli elezionari che si chiamano così appunto perché facevano le elezioni degli altri nominavano il consiglio generale nominavano gli additi che nominavano il consiglio segreto era praticamente un sistema circolare che si autonominava e si portava avanti quindi una cosa molto curiosa molto complessa sembrava democratica a una vista perché coinvolgeva tante persone ma è verità le persone erano tante ma non è sempre le stesse questi sono gli statuti di Valle Camonica ovvero la legge fondamentale di Valle Camonica se voi andavate a studiare diritto dovevate a studiarvi queste leggi della Valle Camonica ci sono i primi statuti di cui sia notizia risalgono appunto i primi statuti interi che abbiamo che possiamo leggere come si governava Valle Camonica risalgono nel 1433 che sono stati poi ristampati a stampa perché nel 1433 la stampa non esisteva ancora nel 1428 invece sono stati stampati con il sistema di Gutenberg quindi fatti in serie sono stati riformati nel 1628 quindi sono stati aggiornati e riaggiornati nuovamente nel 1750 beh erano talmente complessi estremamente stringenti questi statuti di Valle Camonica che ovviamente mettevano un sacco di paletti come diceva prima i Camoni era molto gelosi dall'autonomia e cercavano di togliere il più possibile potere il capitano di Valle che come sappiamo essere un bresciano e quindi meno mano ci metteva meglio che era e infatti abbiamo questa nota molto curiosa di un bresciano dell'epoca che ci dice che se si volesse intendere gli statuti giudaicamente secondo la loro scorsa le parole cioè se vogliamo leggere esattamente quello che hanno scritto i Camoni in questi statuti in molti casi non sarebbe maggior e in molti minor l'autorità di un capitano di Valle Camonica che di un semplice vicario di una vita cioè se volessimo leggere esattamente come gli statuti il capitano di Valle Camonica sarebbe potente più o meno come un sindaco con un paesino perché li hanno calibrati talmente bene con una serie di limitazioni che ovviamente non c'era la possibilità di sgarare li quali scorrendo gli statuti si può vedere quanto siano disonesti insopportabili e non c'è niente che non lo vede ovviamente il bresciano tirava l'acqua su un collino e diceva devo diventare capitano di Valle Camonica sentirla sua e non avere neanche potere di far nulla e quindi ecco era una critica avvellata al nostro sistema di controllo leggiamo qualche articolo perché all'interno dei statuti ci sono cose interessanti ad esempio l'articolo 50 c'erano le penne per chi toglie qualcuno il cappello dalla testa pensate oggi prendere una multa per aver strappato un cappello di testa dalla gente pena per chi colpisce qualcuno con una pedata pena per una tirata di barba o aggressione con denti unghie e pugni questo qui probabilmente per le donne che a volte andavano loro pena per lo schiaffo pena per chi strappa un dento pena per gli avvenimenti allenatori e portatori di maleficio cioè per gli stregoni streghe e stregoni pena per gli eretici ovviamente pena per sodomia pena per bigamia pena per violenza una donna di onesti costumi per una donna di non onesti costumi non era contemplata pena per furto uccisione di cani giustamente c'erano anche gli animalisti in tempo che a volte i cani questo invece il sigillo di vale camonica molto bello questo qui era il sigillo quello che usavamo per timbrare i documenti sulla cera guardate che bello che è lo stemmo di vale camonica con l'aquila e il cervo ma al centro dell'aquila c'è un leone di san marco in moleca c'è un leone di san marco stretto su se stesso in moleca vuol dire in forma di granchio che è una tipica forma che prende leone di san marco nei documenti veneziani qui si vede proprio la fedeltà della vale camonica alla serenissima repubblica espressa anche negli statuti negli bolli come si difendeva la vale camonica in epoca veneziana avevamo delle guardie delle guardie che erano posti ai confini perché anche in tempo di pace si tengono qualche guardia qualche guardia può essere alle 2 alle 4 alle 8 alle 10 purtroppo non lo specificano a Ponte di Regno Monno e Corteno perché in questi tre posti? perché Ponte di Regno confinava con la zona del Trentino ma anche a nord con Bormio Bormio Valtellina era tutta zona crigiona era svizzera e quindi era territorio straniero faceva parte della serenissima repubblica mentre vedete che non c'è nessuno a guardia con Bergamo Bergamo con la zona di Scalve la zona di Schilpari o di Erzone ovviamente faceva parte della repubblica di Venezia e quindi non c'era un confine in quella zona che doveva essere controllato da chi è difesa la malica monica? dalle cosiddette cernide cernide deriva appunto da cernita da scelta cosa si faceva? si chiedeva alle comunità ai paesi locali di fornire una persona questa persona veniva scelta e questa persona veniva mandata a fare un militare per le comunità questo era spesso un onere molto pesante perché ovviamente una persona in meno era meno braccia da utilizzare per lavoro per agricoltura e quindi spesso si pagava una tassa una multa piuttosto che mandare qualcuno a fare il servizio di leva militare ogni anno quando capitava non spesso ogni anno venivano fatte delle mostre ovvero veniva il rettore di Brescia che era appunto il polistà veneto che stava in Brescia veniva in valle Camonica a visionare come era lo stato di sicurezza dei confini e allora si faceva delle mostre ovvero delle sfilate militari vere e proprie in cui tutti gli abitanti della valle Camonica che erano stati scelti come cerite sfilavano con i loro schioppetti con i loro fucili facevano finti di fare delle scarmaglie e poi ritornavano tutti a casa loro e bisogna avere queste cerite che a volte era fatte a cemmo perché più o meno era a metà della valle Camonica venivano su persone da Pisogna non da Pisogna dalla bassa valle Camonica Pisogna era in una forma un po' particolare essendo solo a volte era esclusa ma esempio da Pian Camuno in su e da Ponte di Legno in giù quindi ci mettevano anche parecchio tempo per scendere fino a Pisogna per scendere fino a Cemmo a fare queste mostre e ovviamente buttavano di una giornata di lavoro e spettava il comune risarcire questa giornata di lavoro che veniva persa capitava però che queste persone che ricevevano i soldi serviavano sì di Ponte di Legno verso Cemmo e poi Cemmo ce ne avevano mai e allora spesso arrivava la lettera di rimostranza dal provveditore che doveva controllare diceva ma guardate voi di Ponte di Legno non ci avete mandato giù nessuno e con i Ponte di Legno come no non li abbiamo pagati non sono arrivati e no non sono arrivati e allora spesso succedeva che i soldi li davano ritorno cioè quando perché ovviamente se li davano in anticipo arrivava giù li dispendeva prima osteria che trovavi e poi non si muovevano più sono appunto cose che succedevano ecco di cosa si campava in Valle Camonica in epoca antica un schipas con i miniere ecco le tre sorgenti della vita camuna questi sono sostanzialmente i beni di cui si campava in Valle Camonica la pastorizia era soprattutto in voglia in Alta Valle Camonica dove i campi rendevano poco e quindi bisogna puntare sull'allevamento i pastori scendevano allegramente nel piano cioè scendevano al di sotto nel nago di Sia nella zona della Bresciana ma anche nel Cremonese dove ottenevano non solo il pascolo gratuito ma persino grano in compenso le concime che lasciavano ovvero le pecore lasciavano le concime d'inverno quando si faceva la transumanza e ovviamente per questo allora il coltivatore bresciano che aveva appunto cucimato le sue terre a gratis in cambio gli dava appunto la possibilità di avere qualcosa di altro questi nostri pastori camuni quindi vedete anche qua questa osmosi che c'era fra il territorio e la pianura sostanzialmente solo il comune di Pontilegno migravano a svernare 18.000 pecore quindi la verità dovrebbe essere una cosa veramente imponente vedere passare queste mandri sul fondo valle che andavano avanti indietro la Val Camonica due volte l'anno è interessante questa nota scritta sempre nel 1554 in metà del 500 che ci dà un'idea di la situazione camune di quanti abitavano in Val Camonica la Val Camonica è molto abitata per il termine del tempo circa 45.000 anime oggi siamo circa il doppio siamo in numeri altissimi siamo circa il doppio qual per un terzo poco più dell'anno fra castagni e grano vive del suo per il resto poi si provvede nel Bresciano e Cremonese questa nota molto importante ovvero in Val Camonica di quello che si coltivava non ce n'era abbastanza se non c'era il commercio con la Bresciana se non c'era il commercio del ferro qui si moriva di fame e questo è un problema molto forte per la valle che ovviamente era così grande così abitata perché appunto aveva la ricchezza di commerciare infatti questo è l'unico forno del ferro fusorio che è rimasto in Valle Camoni che si trovava a Lono ce ne erano tantissimi una volta e serviva appunto per cuocere il ferro delle miniere e appunto poi lavorarlo e vendere sui mercati come abbiamo visto prima a industria questa valle molto ferrarezza lo dicevamo prima che spazza cioè che sparge in Francia in Spagna e per tutta l'Italia nel 1500 la valle Camonica commerciava già con Europa il suo ferro grazie appunto a quel diploma di edizione che abbiamo visto prima che ci permetteva appunto di vendere ferro a chiunque non solamente a Venezia qui per darvi un'idea vi ho fatto un elenco delle attività economiche dei comuni della valle Camonica nel 1610 i pallini gialli indicano quei comuni dove gli abitanti erano sostanzialmente stanziari dove appunto potevano campare come contadini come cavatori di pietra o cavatori di pietra intendo minerale quindi di ferro col minatori oppure come commercianti vedete che da parte della valle più o meno riusciva a sostentarsi poi ci sono delle zone queste qui in rosso ma anche quelle in arancione in cui erano i pide dove il terreno era talmente poco produttivo per la coltivazione o talmente scarso di minerale di ferro infatti vedi che sono tutte nella zona sinistra di ferro nella zona destra di ferro e tutta una zona orobica della valle Camonica quindi nella costa occidentale da queste zone qui gli abitanti erano soprattutto dei pecorai quindi dei pastori che andavano appunto a svernare inverno nella Bresciana ed estate ritornavano ad alta quota e quindi quasi nomadi seminomadi stavano sei mesi l'anno da una parte e sei mesi l'anno dall'altra sotto la Repubblica di Venezia vi è un boom per quanto riguarda l'arte in valle Camonica qui ne do solamente un accenno ma perché sono nomi veramente importanti lascio perdere Ioannes Damolpino questa figura particolare in metà del Trecento su cui si sta ancora lavorando ancora oggi però ovviamente abbiamo il paroto che probabilmente qualcuno di voi avrà visto esposto insieme a Valle Camonica che a Brescia l'anno scorso che è stato riacquistato questo politico che era stato venduto ancora il secolo scorso degli americani è rimasto in America per quasi cento anni adesso è stato ricomprato da una banca bresciana e quindi è ritornato nelle nostre zone originari della Valle Camonica andiamo sicuramente tra i pittori e artisti più importanti della Valle Camonica Giovanni Pietro Dacemmo che è diciamo l'apice la nostra pittura locale lui è vissuto operato fra la fine del Quattrocento e l'inizio del Cinquecento e la sua prima opera si trova proprio qui a due passi annunciate e sarà poi tema della visita della settimana prossima abbiamo poi Girolamo Romanino che lo vediamo qui di Pisonie un artista stupendo anche lui con questo stile molto soffuso con queste pennellate molto rapide era un Van Gogh dell'epoca ecco era un anticlassicista era famosissimo quando è venuto qui a operare in Valle Camonica quindi non gli scarti avevamo qui in Valle Camonica questo deve essere molto chiaro eravamo persone veramente alla moda a quel tempo è un Calisto Piazza che veniva invece da Lodi quando vi dico Lodi dovete immaginarvi zone dello Stato di Milano quindi per noi Lodi era un cittadino straniero questo Calisto Piazza che veniva nella Repubblica di San Marco oppure parlo da Calino e il Giovane Calino è stata una zona della Val Trompia sia Calino e il Giovane che anche il Vecchio hanno operato qui in Valle Camonica sempre nel Cinquecento per quanto riguarda la religione volevo dire invece due parole su delle confraternite che sono sempre molto importanti sono sempre state molto importanti quindi in Valle Camonica è bene di conoscere non so se avete presente i disciplini che sono famosissimi in Valle Camonica i disciplini chi erano? beh erano queste figure qua che vedete coperte di teli bianchi come vengono anche il volto erano chiamate disciplini perché utilizzavano la disciplina ovvero un piccolo frustino con delle con delle catene di ferro con cui appunto si battevano la schiena infatti vedete che avevano la schiena nuda perde anche un po' di sangue è questo è una pratica devozionale che è nata nel Medioevo a un boom tra i tre e i quattrocento nelle nostre zone non c'era paese che non avesse una confraternza e disciplina infatti notate anche qui all'assimo superiore accanto alla chiesa parrocchiale c'è sempre una chiesetta piccola in solito una chiesetta piccola accanto alla parrocchiale è la chiesetta dei disciplini erano laici non erano degli ordini di nessun tipo erano delle persone normali che si trovavano pregavano assieme in solito erano un po' delle confraternite nel senso che avevano l'obbligo di sostenersi a vicenda una specie di mutua assicurazione ad esempio non so se un membro della confraternita moriva tutti gli altri dovevano aiutare la famiglia in caso di necessità e così via si coprivano il volto appunto per non essere riconosciuti essere tutti uguali perché ovviamente poteva farci parte il medico così come il consul del paese così come l'ultimo poveraccio quindi quando si era con la maschera si erano a pregare si erano tutti allo stesso livello non bisognava darsi del lei o del vuole eravano tutti fratelli in alcuni casi questi disciplini esistono ancora oggi ad esempio a Berzo Inferiore oppure in Alta Valle Camonica a Vina d'Alegno in verità non sono più vestiti in giro così adesso i disciplini di oggi così come quelli della Valle Camonica come quelli delle Vallate Bergamasche perché ne esistono tanti anche in quelle zone vanno in giro vestiti con una mantellina rossa e col volto scoperto e con un grosso crocifisso col simbolo del Santissimo Sacramento sul petto sono chiamati disciplini ma in verità sarebbero le confraternite del Santissimo Sacramento rimasto in nome di disciplini tradizionalmente e a differenza appunto dei vecchi disciplini sono molto più legati a una gerarchia ecclesiastica dalla fine del Cinquecento passa Carlo Borromeo qui in Valle Camonica e cerca di organizzare un po' queste confraternite laiche che si auto-organizzavano per conto loro e i disciplini vengono appunto diciamo quasi fatti scomparire per essere sostituiti dei confraterni del Santissimo Sacramento che avevano a capo di prete e quindi potevano controllarli molto più direttamente poi ecco vi ho calcolato sempre che Venezia con la religione cristiana ha sempre avuto forti attriti soprattutto fra il Quattrocento e il Seicento pensate nel Seicento ha rischiato perfino uno scisma con la Chiesa Cattolica poteva nascere una Chiesa Cattolica Veneziana con una Chiesa Cattolica Anglicana per quanto riguarda gli inglesi loro ce l'ha fatta con Enrico VIII o anche i veneziani poi sono rientrati nella Chiesa Cattolica ma in verità noi qui in Valleca Monica potevamo appunto prendere una via religiosa del tutto diversa stregoneria ovviamente questo è un tema che vi ha tirato tutti qua stasera no? perché quando vi compare la parola strega poi la gente viene no a dire la verità ecco è un tema interessante e curioso è un è una cosa che spesso viene sottovalutata anche qui in Valleca Monica perché viene spesso banalizzata ma è un periodo storico veramente molto importante per la nostra vallata anche perché poi in Valleca Monica è stata la caccia delle streghe più grande della penisola italiana o almeno questo è quello che ci dicono gli studiosi perché qui risulta che siano state date a rogo tra le 60 ed 80 persone quindi in verità un numero abbastanza consistente le segnalazioni di stregoneria in Valleca Monica partono dalla fine del 400 o almeno in quelli in cui si hanno traccia e riguardano appunto degli adoratori del diavolo peraltro se non sbaglio in questa segnalazione del fine del 400 parlavo forse anche di un prete di Borno che facevano essere in zona a dire la verità la Valleca Monica è legata alle stregonerie in particolare per un posto per il monte tonale vedete qua il passo del tonale non so se siete presenti in cima a Ponte di Legno per scendere in Valle di Soli bisogna fare il passo del tonale ma è secondo la tradizione cattolica secondo la tradizione popolare queste streghe si ritrovavano sul monte tonale per fare il loro sabba per fare i loro riti per fare appunto messa a dire quando accade la caccia alle streghe della Valleca Monica accade in un periodo abbastanza definito tra il 1518 e il 1521 quindi anche qua a noi spesso si immagina la caccia alle streghe come una cosa prettamente medievale e no in verità siamo nel 500 siamo 400 anni fa neanche tanto non tornava il tempo poi la caccia alle streghe è continuata in Val Teodina in Svizzera l'ultima streghe è stata bruciata tra fine 600 e inizio 700 quindi è una cosa che è andata molto avanti nel tempo non dimenticate come abbiamo visto prima che queste streghe erano cacciate e bruciate per legge perché non era colpa dell'inquisitore della chiesa cattolica brutta e cattiva come spesso viene minimizzato ma c'erano degli statuti e abbiamo visti prima pene contro quelle che facevano maleficio ovvero della comunità che richiedeva di bruciare certe persone cioè era proprio per legge quindi gli inquisitori facevano altro che applicare la legge cosa succede? 28 luglio 1518 siamo peraltro quasi contemporanei non so se vostra magnificenza abbia inteso l'eresia qual è in Val Camonica valle soggetta dell'urisdizione nostra di Brescia né qual valle fino a ora e sta brusati circa 60 femmine e forse 20 uomini tutti vivi queste bestie eretiche hanno eletto un monte il quale si chiama Tonale nel quale si ridusero a fotter e a ballare e quindi sappiamo che cosa facevano anche su questo monte Tonale scrivete che non è propriamente italiano è volgare ma è volgare il volgare Veneto ovviamente è sereno sotto Repubblica di Venezia che sta scrivendo la serenissima serenità vostra la vostra magnificenza questi documenti che vi sto leggendo provengono da un diario dal diario di Marin Sanudo che era un giovane veneziano un giovane patrizio che ha viggiato un sacco per la terraferma veneta e ha scritto un'enorme quantità di diari che in gran parte non sono ancora stati tutti studiati e letti fino in fondo e ha notato un sacco di documenti di fatti che cadevano in sua contemporanea tra cui appunto un sacco di documenti che riguardano la Val Camonica perché lì è vissuto nel periodo in cui succedevano queste cose nell'agosto del 1518 e sto stavrusati in Val Camonica in quattro luoghi probabilmente nei quattro pievanati della Val Camonica escluso bisogna circa 64 persone maschi e femmine quindi non solo streghe donne anche maschi c'erano anche streghe donne e altrettanti e più ne sono in prisione e ne sono circa 5.000 cose inestimabile ma ovviamente sono forse numeri un po' gonfiati se ricordiamo prima la Val Camonica era 50.000 45 militanti cioè raramente sarebbe stato mettere in galera metà della Val Camonica praticamente però ovviamente per dire anche solo questo nome vuol dire che la cosa era molto diffusa e molto molto pesante 17 giugno 1518 questa è una descrizione che viene proprio da Mani Saludo e secondo me è molto toccante perché ci fa capire un po' come venivano poi svolti questi processi ci sono 8 donne che vengono sostanzialmente condannate a rogo e mentre veniva letta la sentenza vedi che dette donne si pentivano davvero secondo me qui c'è un c'è un osservatore fisicamente che descrive la sua testimonianza poiché pregavano con devozione si raccomandavano a Dio e alla Beatissima Vergine e quasi tutte ammisero che il prete aveva loro promesso la libertà se avessero confessato e dico che sentì una donna urlare pubblicamente sappiati veramente che discolpo Antonio Decus e lo Ciabatino e Bartolomeo dei Mori e ne citò altri dicendo e non è vero che li vedesse mai intonato ma me lo hanno fatto dire per forza e questo dico per discargarla a mia coscienza si capisce che probabilmente utilizzavano anche metodi di tortura le provavano tutte per farle confessare ma ovviamente queste donne hanno fatto tutte una brutta fine il famoso rogo di Pisogna di cui c'è una lapide che ricolla sul torturo del vesco a Pisogna la caccia di streghe sostanzialmente finirà un paio di anni dopo proseguirà tra l'altro con una lotta amministrativa tra lo Stato del Vaticano lo Stato del Papa e la Repubblica di Venezia che si era imposta di fermare questi roghi che probabilmente avevano preso una piega indiscriminata si bruciava gente probabilmente in maniera eccessiva e allora anche lo Stato di Venezia cerca di intervenire per evitare una decadenza della questione siamo nel 518 all'inizio vi raccontavo un po' cos'era successo nella storia di Valle Camonica che dal 1428 al 1797 la Valle Camonica rimane alla Repubblica di Venezia e c'è una piccola parentesi in cui appunto la Lega di Cambrai perde tutti i territori della terraferma sostanzialmente perde tutti i suoi territori in Italia beh questo periodo è tra il 1509 e il 1516 siamo più o meno qua probabilmente Venezia non aveva ancora un polso completo sui suoi territori appena riconquistati e ovviamente gli inquisitori ecclesiastici spingevano un po' per fare il buono e il cattivo tempo da parte loro e quindi ecco c'era anche un problema politico di fondo questa caccia di streghe che è da tenere sempre sotto sott'occhio la Valle Camonica dicevamo era vicinissima a territori che non facevano parte della Serenissima Repubblica di Venezia ad esempio le tre leghe ovvero lo Stato Svizzero la Valle Camonica si trova qui qui c'è l'idolo questa è la Valtellina ovviamente non è un tedeschio questo Vormus è Vormio qui ci sono i terziere della Valtellina che facevano tutte parti dei Grigioni e come sapete i Grigioni dopo essersi conquistati dopo aver conquistato la Valtellina essendo i Grigioni di regione protestante e quindi eretica pongono sostanzialmente il confine fra il protestantesimo e il cattolicesimo sul crinale fra l'idolo e la Valtellina un problema